Oltre tre tonnellate di botti legali che venduti per Capodanno avrebbero fruttato circa 200.000 euro ad occuparsi del loro commercio una donna di Scafati scoperta dai finanzieri nel corso dei controlli in materia di sicurezza dei prodotti per Capodanno sul fronte del contrasto alla detenzione alla vendita illecita di botti. In vista delle festività di fine anno, le fiamme gialle si sono concentrati sulla verifica di materiali esplodenti e commercializzati commercializzati, portando al sequestro di un ingente quantitativo di articoli irregolari e non a norma. Grazie ad una preliminare attività info-investigativa, i finanzieri della compagnia di Nocera Inferiore hanno individuato una donna di Scafati che con l'aiuto del figlio si stava preparando al San Silvestro con il botto. Dopo un preliminare appostamento, i militari si sono recati ad Angri per ispezionare un locale fatiscente adibito a magazzino dove sapevano essere presenti per certo i due individui. All'interno del deposito, peraltro completamente sprovvisto dei requisiti minimi di sicurezza e di qualsivoglia autorizzazione per la detenzione di quel materiale, sono stati così rinvenuti oltre 4.000 fuochi pirotecnici e vari ordigni di diverse dimensioni, tra cui candelotti e bombe carta di origine asiatica prodotti artigianalmente e associati perfino tra loro per avere un effetto esplosivo più forte. Le fiamme gialle hanno subito proceduto al sequestro dei botti illegali. In totale 4.215 manufatti distribuiti tra circa 300 colli che una volta immessi in vendita avrebbero furtato circa 200.000 euro. La merce è stata poi trasferita presso una rimessa autorizzata in attesa della perizia tecnica da parte degli artificieri della questura di Salerno che ne determinerà l'indice di pericolosità. La donna si è dichiarata la sola responsabile dell'accaduto e per questo è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per le gravi violazioni alle norme in materia di pubblica sicurezza e rischia ora fino a tre anni di reclusione oltre ad una multa che può raggiungere i 100.000 euro.